buongiorno a tutti collaborare si può questo è il titolo della pillola di oggi ne parliamo perché anche se oggi le perplessità le paure sono in via di superamento è un tema che è stato o lungamente dibattuto certamente collaborare si può quando i procedimenti collaborativi sono autentici giuridicamente fondati ben fatti proviamo a fare un passo indietro allora certamente sappiamo che i rapporti tra un ente pubblico e altri soggetti in questo caso specifico ci interroghiamo sul terzo settore possono essere di tipo diverso quello che noi tendiamo ad affermare è che la competizione quindi l'appalto per scegliere un fornitore e la collaborazione di cui parliamo diffusamente in queste pillole sono due strade ugualmente legittime ragioneremo su quando è utile seguire una o utile seguire l'altra togliamoci subito diciamo un possibile ed è un possibile equivoco in entrambi i casi la pubblica amministrazione persegue un interesse pubblico quando si collabora non è per fare un favore al terzo settore come ancora pochi anni fa qualcuno pensava e non è un modo diciamo meno imparziale in cui non si usa non si non si trattano tutti i soggetti allo stesso modo in cui di minore trasparenza al contrario sono tutti questi criteri sono indifferenti al fatto che si sceglie una strada competitiva collaborativa imparzialità parità di trattamento trasparenza pubblicità non discriminazione di nessun soggetto interessato a 20 titoli per partecipare a un certo procedimento allora la domanda corretta diventa diventa quando è sensato usare strumenti collaborativi e quando invece orientarsi verso la competizione diciamo così per trovare un primo discrime molto molto chiaro la competizione si attua quando la pubblica amministrazione vuole assicurarsi una certa prestazione alle migliori condizioni e paga il prezzo corrispondente mi servono 500 ore di educatore professionale le pago o quanto il mercato pervenne la collaborazione invece è lo strumento che stiamo evocando a cui ci stiamo orientando quando in ottica di sussidiarietà vogliamo sostenere dei soggetti della società civile riconoscendo che essi così come la pubblica amministrazione realizzano il bene comune hanno delle finalità di interesse generale però mi rendo conto che il fatto di essere nella prima o nella seconda situazione in gran parte dipende dalle d'ascente politiche dalle strategie di intervento non dal bisogno in sé cioè uno stesso bisogno può essere soddisfatto in un modo o nell'altro facciamo degli esempi forse è più chiaro ci sono molti anziani su un territorio e ci rendiamo conto che potrebbero vivere da soli ma non avendo nessuna rete di supporto vengono messi in una struttura residenziale in una casa di riposo perché non hanno gli aiuti necessari cosa faccio strategia 1 ritengo che il modo migliore per rispondere questo bisogno sia l'acquisto di una determinata prestazione tot ore di esistenza domiciliare allora ho già scelto che io ho scelto questa strada quella che trovate sulla sinistra del del dello schermo dovrò cercare sul mercato chi riesce a assicurarmi questa prestazione nel modo migliore dando il migliore apporto presso qualità oppure posso fare un'altra scelta orientarmi verso un'altra strategia per rispondere allo stesso bisogno e posso dire voglio promuovere supportare un ampio concorso di forze che sono diverse sono professionali come quelle di una cooperativa ma sono volontarie il mutuo aiuto il vicinato e così via per andare a costruire con impegno la responsabilizzazione di tutti eh un sistema che consente alla persona anziana di rimanere per il prossimo presso il proprio domicilio allora se io sto pensando in questo modo non saprei neanche cosa appaltare non sto mettendo in competizione no eh a contro b eh per una a fornitura di una prestazione sto cercando di dare vita di suscitare delle dinamiche territoriali di un certo tipo allora dovrà utilizzare solamente collaborativi facciamo un altro esempio i giovani del territorio sono particolarmente soli durante l'era covid si sono tutti rincusi in casa a giocare con i loro cellulari e cosa faccio se la mia risposta è adesso che ci possiamo di nuovo vedere apriamo un centro ragazzi dalle ore alle ore in quell'edificio eh facendo quelle attività ho già scelto ho scelto una via prestazionale ehm se invece dico eh come faccio affrontare questo problema devo mettere insieme l'oratorio eh l'associazione eh musicale eh l'associazione polisportiva la cooperativa di educatori eh e così via che tutti insieme si mettano a realizzare un sistema che eh eh tira fuori i ragazzi di casa e li fa riannodare delle relazioni allora io sto pensando in modo collaborativo quindi eh non è solo il bisogno anche il bisogno ma non è solo quello a dirmi quale essere da seguire ma è la mia strategia di risposta per cui io posso tenere prevalente un aspetto prestazionale o una strategia sussidiaria e collaborativa ehm ci saranno altre pilole che approfondiscono eh questo questo tema ma solo per iniziare a fare un po' di di eh chiarezza a questa immagine eh la la proposta per per la prima volta eh Luciano Gallo che eh sarà autore di alcune altre pilole noi allora abbiamo da una parte i principi generali abbiamo visto mh principi generali di relazione amministrativa quindi eh la trasparenza di evidenza pubblica e la parità di trattamento e poi abbiamo visto che le strade si dividono voglio acquistare le prestazioni o voglio seguire una strategia sussidiaria collaborativa scelta politica quando vedete le due vie eh sulla parte bassa dello schermo che si rifocano è il momento della mia scelta eh di conseguenza cercherò gli strumenti vedete che gli strumenti sono alla fine del percorso logico non all'inizio io non scelgo di utilizzare l'appalto o la progettazione io scelgo per un di tutto cosa voglio fare e poi di conseguenza quello strumento più adeguato per raggiungere questo risultato se io eh scelgo una strategia eh basata sulla competizione eh ho il mio armadio acqua l'armadio codice dei contratti pubblici mi dice cosa devo fare benissimo se io invece ho scelto la strada che abbiamo visto prima abbiamo denominata sussidiaria collaborativa e certamente devo fare un piccolo sforzo in più ed è questo forse eh il motivo che ha reso alcuni amministratori locali fino a tempi molto recenti eh un po' diffidenti verso questi strumenti e sì perché io ho un software amministrativo l'articolo 55 di cui parliamo in queste giornate eh ma anche altri storicamente ad esempio il DPCM 30 marzo 2001 applicativo della 328 che dicono delle cose però io li guardo e dico ma come faccio eh come faccio con le procedure insomma nell'altro armadio quello sulla sinistra dello schermo avevo tanti articoli che dicono esattamente cosa fare e qua invece ho un singolo articolo che mi dice delle cose piuttosto scarne beh ecco teniamo presente questo l'accordo costituzionale lo ha riaffermato con forza nella sentenza 131 di cui spesso parleremo in queste giornate da un punto di vista dei procedimenti di un riferimento una sorta di hardware eh amministrativo sottostante che nella legge 241 90 cioè nella legge sul procedimento amministrativo che qualsiasi ehm eh amministratore pubblico utilizza quotidianamente per una pluralità di questioni non ne approfondisco perché poi ne parleranno eh Luciano Gallo, Luca Gori e sicuramente molto meglio di me eh ma questo per dire che insieme all'innovatività degli strumenti collaborativi abbiamo un fondamento solido e certo da un punto di vista eh procedurale eh e quindi eh io spero di di avervi comunicato che gli strumenti collaborativi non sono mh eh innanzitutto non sono una semplificazione, uno strumento borderline che gira dei vincoli eh non sono un modo un po' più semplice per fare le stesse cose che avrei fatto con un appalto che non sono strumenti che sono applicabili sempre e comunque e qualunque eh e qualunque sia la mia strategia, il mio orientamento eh per soddisfare i bisogni eh di un territorio. Gli strumenti collaborativi sono innanzitutto il frutto ultimo, cioè la copresentazione, il frutto ultimo di una diversa concezione della società civile, no? Eh per cui eh amministratore locale riconosco che quei soggetti di terzo settore hanno la mia stessa a a finalità, sono alleati nell'affrontare eh un bisogno del del territorio, non sono fornitori. Eh generalmente eh queste opzioni diciamo collaborative si accompagnano a percorsi partecipativi, cioè ho nella mia mentalità che eh amministro o o o favorendo la partecipazione di soggetti diversi al processo amministrativo. E certamente poi garantisco in ogni fase dall'avviso a a lavoro nei tavoli, imparsalità, parità di trattamento, evidenza pubblica, ho dei eh criteri predefiniti che mi guidano e ho fondamenti procedurali che sono diversi dal codice di racconto ma abbiamo visto altrettanto soldi. Eh quindi per finire cos'è cambiato di recente? Beh la la consapevolezza recente ne parleremo meglio anche in un'altra pillola che si può. Non vuol dire che si deve ma si può. Eh questo perché eh paradossalmente sino a pochi anni fa l'amministratore pubblico eh riteneva magari che sarebbe auspicabile agire in modo collaborativo però però eh la via maestra per rapportarsi con soggetti tersi era la competizione da partono. La collaborazione ha percepita comunque qualcosa di residuale, rischioso, posso farlo solo in casi molto particolari eh su cose piccole che non diano troppo nell'occhio, no? Eh oggi invece eh la nostra consapevolezza è diversa. Eh la comprocentazione e tutte le altre opzioni collaborative le esploreremo in altre pillole eh se usate nel modo e nelle circostanze appropriate sono finalmente legittime al pari degli strumenti basati sulla competizione eh e sono ugualmente trasparenti e sottoposti procedure che debbono essere eh eh rispettate. Eh a queste condizioni queste due vie e l'ho affermato o ne parleremo in un'altra pillola anche la recente modifica del codice degli appalti sono due vie simmetriche la scelta tra l'una e l'altra è eminentemente una questione di strategia di servizio e di scelte politiche. Grazie e alla prossima pillola.